Io amo Milano perché è a Milano che ho coronato il sogno della mia vita. È a Milano che ho raggiunto l'apice della carriera giornalistica diventando per sei anni vice direttore del Corriere della Sera. Il mio primo articolo, pubblicato il 3 settembre del 2003 dal titolo Le nuove catacombe degli islamici convertiti, è stato profetico per la mia conversione dall'Islam al cattolicesimo avvenuta nella notte della veglia pasquale il 22 marzo del 2008 nella Basilica di San Pietro per mano del Papa Benedetto XVI. È a Milano che ho incontrato Riana Fallaci nella sua abitazione in via Statuto nel 2004. Prima ancora che ci incontrassimo, nell'ottobre del 2003, mi scrisse da New York una lettera mentre era intenta a scrivere la forza della ragione. Davvero, quando avrò, bene o male, concluso questo lavoretto, la primissima copia sarà per te. Più ti leggo, più ci penso, più concludo che sei l'unico su cui, dall'alto dei cieli, o meglio dai gironi dell'inferno, potrò contare. È a Milano che nel 2005 l'allora sindaco Gabriele Albertini mi ha insegnito dell'ambrogino d'oro con questa motivazione. Ha sempre dimostrato un'attenzione speciale verso Milano e la sua dimensione internazionale, unendo all'analisi rigorosa dei fenomeni un approccio divulgativo apprezzato dal grande pubblico. È a Milano che ho esordito in politica, venendo eletto nel giugno del 2009 al Parlamento europeo. Ed ora è a Milano che mi sto cimentando con il vero banco di prova per decollare sulla scena della politica nazionale, partecipando alle prossime elezioni comunali del 15 e 16 maggio come capolista di Io amo Milano. Se mi voterete al Consiglio Comunale di Milano e se mi metterete nella condizione di diventare l'assessore all'identità, alla cittadinanza, all'integrazione e allo sviluppo solidale, non consentirò che si ripetano l'occupazione islamica di Piazza Duomo, la rivolta dei cinesi in via Sarpi, l'arbitrio dei campi nomadi, le violenze dei centri sociali e degli ultra del calcio. Il mio impegno sarà di elevare Milano a modello europeo dell'integrazione, fondato sui valori non negoziabili e sulla certezza di regole che garantiscano tutti senza alcuna discriminazione, ma al tempo stesso che vincolano tutti senza alcuna eccezione. Io amo Milano e tu? Io amo Milano modello di integrazione e tu? Se anche tu ami Milano, il 15 e il 16 maggio sulla scheda azzurra barra il simbolo Io amo Milano e scrivi Allam.